Ok ragazzi, buongiorno, oggi andremo a tracciare, diciamo a disegnare, ecco io mi sposto subito perché ho capito che qui non ci posso stare, mi hanno detto così, andremo a disegnare un pane dell'epipedo, un'altra volta il pane dell'epipedo, però stavolta come vedete è in posizione diversa, è sdraiato per come si sobbiva, ecco. Quindi abbiamo la base che è già stata tracciata, che è insomma la vista dall'alto, andiamo a riportare subito le linee di costruzione verso l'alto, quindi gioco di squadra, una sotto e la seconda che scorre sulla prima, riportiamo la prima linea e la seconda. Perfetto. Adesso sempre utilizzando le due squadre, mi raccomando, le due squadre sono fondamentali, facciamo la prima, facciamo la seconda e andiamo a tracciare le linee della vista frontale. quindi prima facciamo la base e andiamo a tracciare le linee della vista frontale, ok, io lo faccio con la femmina in modo che si possa vedere meglio, però voi fatelo comunque con la matita. abbiamo visto che l'altezza è di 3, quindi andiamo su di 3 e andiamo a tracciare prima quella base superiore e poi allunghiamo. Nel frattempo allunghiamo, allunghiamo per poter fare poi il ribaltamento, il ribaltamento verso il piano laterale. prendiamo adesso il nostro compasso e andiamo a riportare le due linee per poter ritrovare poi il piano laterale. quindi 1, 3 e 2 ecco fatto! le spese le rivolgiamo su con il gioco di squadra. un gioco di squadra. ucky ok adesso non mi resta da riportare le linee che vedo, cords sanno appare le linee della... 표 Ora, ok. Posso prendere le viennini e poi dovrò colorare. Ora, ora, ora. E le altre due. Perfetto. Andiamo a mettere un po' di colore questo disegno perché, diciamo, la vista frontale è arancione, come potete vedere, ed è questa qui. In questo caso la vista laterale è quella che si vede da sinistra, cioè la azzurra. E andiamo a colorarla. Ecco fatto. Tutto finito, mi raccomando. Buon disegno e arrivederci. Ciao, ciao.